Il rinvio della Notte Bianca si trasforma in una nuova festa, il 6 agosto ci sarà l'attesa Notte Bianca dell'Adriatico, novità nel cartellone ci sarà il gruppo vincitore di Sanremo? Sì, ci sono alcune conferme e tante novità, conferme come Michele Placido che si esibirà nel Piazza Le Laudi sulla Riviera Sud, Tonino Carotone allo Stadio del Mare Nave di Cascella e poi c'è questo grande New Entry, il gruppo Gli Stadio che sono i vincitori del Festival di Sanremo che si esibiranno nel palco principale dell'Arena del Mare alle 23.30 circa confermate tutte le altre location, confermato il Busker Festival, quindi ci saranno oltre 30 gruppi che animeranno tutta la serata, artisti di strada, street food insomma abbiamo coinvolto anche altre zone della città come Piazza Salotto, Piazza Muzzi, Corso Vittorio Emanuele, Corso Umberto, Via Cesare Battisti e questo è un segnale importante perché è una notte davvero che accenderà la città non solo dal punto di vista del divertimento e dell'intrattenimento ma soprattutto per rilanciare la vocazione turistica anche in termini economici Viste le presenze dell'anno scorso che sono state 200.000 quest'anno, è una conferma ma cosa ci si aspetta? Ci aspettiamo che le 200.000 persone aumentino ma soprattutto aumenti l'indotto legato a questa notte l'anno scorso abbiamo avuto il 150% di aumento dei consumi, quest'anno insieme all'università faremo uno studio anche sulla capacità di questa notte di incidere sul PIL cittadino e questo è un dato davvero importante perché le manifestazioni poi creano economia e noi vogliamo fare uno studio approfondito per poi comunicarlo e capire come investire ancora meglio nei prossimi anni PIL cittadino